Sì, anch'io, adesso ne abbiamo già 500 quasi e sennò l'ho preso due volte C'è, servono un fortino perché quelle rani abbastate scappano, quindi pensavo ne attiriamo una all'attacco da noi ma la tiriamo lontana dalla palude e dopo di che esatto perché altrimenti si torna la paura e non puoi andare dentro, ti incurano Ok adesso devo prendere l'arco, la prova a volare Cazzo, sono stato sedato Provo a volare la rana Ok cazzo Eh, dietro, dietro, è nato verso la fiamma salellata, lì Mi sa che, mi sa che il problema è qua che hanno un torpolenica male, questi anni mai detto che lo infliggono Ok, ferma, ferma Ah, grande Ah, è andata terra, è andata terra Ah, ma se è un grande Buona storia, sta tornando Ah, semplice, allora gli mettono la carne, questa Eh, sì, 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 sì Secondo quando cambio di orientamento Il tipo fanno Ma sembra tipo un ragno, porcosì Sic Stai che ma lunghe Oh, 99.1 Che bello non vedo In giro Sulla mia bella rana Si Ho trovato ciò ho trovato qualcosa qua ho detto quale ha preso 12 malato qui fa la combatte così che il tasto destro è l'aio e l'attacco ad area e quando ti vuole ne infottivo di livello intorno ai tuoi coglioni si acci quello video sono aveva un'altra a un paio ecco uno c'è su me un'altra è morta ha preso un livello ho messo a me che fa cosa però ah ok l'ha preso ah sta scappando ce n'è una qua che continua a rompere guarda ecco qua perfetto ho capito qualcosa che non deve essere colpito ahahahahah qui rompe metà della foresta e guarda qua che bella questa zona eh potremmo farla neanche tanto in alto tipo questa altezza e dopo la colleghiamo tipo qua si appunto o le iniziamo qua sopra ok allora intanto qua inizio il piazzo quale fondamenta che va proprio diretta la cosa poi se caso valziamo un po' o chi se ne frega nonostante ancora un po' in là come problema oh che cazzo è scappola qua scappola qua scappola qua mi chiediamo sauro orkutiez è grosso ecco questa 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 base qua davanti a noi fa davanti a cagare non ho proprio personalità è una tristezza l'ho giusto qui non lo metto qua sopra allora sperando che non ci sono le foglie però che rompono i coglioni ahahahahah via ahahah ok andiamo a vedere ahahah ci sono foglie no è bellissimo si? si si è bellissimo ottimo eh chiama un po' il tuo coso qua 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 ah bello si sente mica al sicuro qua sopra qua sta 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 vedi a piantare in giro l'armadio va vai piazzami buono buono ah eccoti sei tu? si ahahah ahahah che brutto grande ottimo ottimo hit un cosa? con un... ah con un... un mattarello eh l'attacco aspetta 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 che la tiro un po' fuori da palude se no do prende la macera Ok, quindi il bastone E piccola di brutto No, bravo, bravo Ma non muore Oh, 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 oh Venga, che non accade Perché non posso arrampicarmi Eh? Perché hai messo? Fogli per terra Poi non ho anche un'arma C'è l'ha all'archetto, magari Wow Oh, cazzo Ma si Non lo so in realtà Io l'ho picchietto uno così Gira Eh, che sono grandi Cosa si attaccano Vabbè, mi stanno attaccando Ti stanno attaccando? Sì Sono forti? Eh, orkudiez Mi stanno ammazzando Aiuto Ok, ora è morto Vediamo un po' cosa c'è da droppa Ok Vediamo un po' cosa c'è da droppa Ok Questo like qua è impossibile prendere 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 2 probably bel Prendere Napoli Prendere 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 Le so ne sa che ben fattore Come si Rivedguard Ha chodzi Nicht Ma va mo cerchiamo dopo di non attaccare l'animale magari con la piscina avvolte se non ci vedono quando ti manca a te di d se mi sveglio che cazzo è che c'è da sotto ci sei se vuole guarda sott'acqua ora in fondo cazzo è oh merda due cose ah ma sono dei sono dei dei cocodrilli ok è un artefatto si ah prendilo non so se ti pot oh vieni fuori dall'acqua sono tipo dei pulmonoscorpio ma invece da sotto mi sa che devi provare tu allora adesso andare e prendere quel allora se guarda se vai sotto lo prendi e poi vieni ah contenitore bottino selvatico titano boa come sei? sono gioco altro punera e sono ma sei dato che su nome ero io si si aspetta che ma come si si non ti vede ah 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 dove sei? ah sei tipo un cento piedi ma si sono cagato oh oh via 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 oh oh mi sono cagato la dose oh merda arriva via via vai via vai via avanti che su 거나 non vi